Io ho cambiato la mia vita, non esco più da sola, ieri sera sono andata in ristorante con amici solo a patto che mi accompagnino dentro perché insomma non mi chiedo più. Se è di sera, se c'è mia figlia in giro, insomma è così. Devi avere un po' paura insomma. Io direi proprio di sì, guardi in giro. Vicenza, Piazzale Bologna, la paura dei residenti. Tutti sanno che qui loro spacciano e arrivano le macchine perché lì vediamo tranquillamente che arrivano. Questi mettono la manina fuori dal finestrino della macchina, questi si alzano, danno la roba, quindi non credo che gli diano lo zuccherino. Spaccio a cattoni, tossicodipendenti che dormono davanti ai portoni, via vai di gente sospetta o che comunque non si sa bene cosa faccia. Benvenuti a Piazzale Bologna, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, da quella dei Pullman e da Campomarzo. Un tempo, pregiata zona residenziale, oggi parcheggio dove anche pagare. Può essere un problema? Il pagamento è difficoltoso sempre, bisogna tirare fuori i soldi 50 metri prima, contatti. Perché altrimenti c'è sempre qualcuno che chiede l'emosina. Sì, e poi c'è uno lì e altri nascosti fra i cespugli. Insomma, poco o nulla sembra essere cambiato nonostante l'arrivo dell'esercito e la presenza delle forze dell'ordine, dicono i cittadini. Che è inutile girare in 20 pattuglie durante il giorno e alla sera sparire tutti, perché di sera che vengono fuori loro. E di giorno, cosa vuoi, si chiedono i documenti, eccetera, ma è di notte che c'è lo spaccio continuo. Vedo spesso sia vigili urbani che polizia, che carabinieri che fanno il loro giretto per di qua. Ma sai, è come catturare l'acqua con le mani. Una battaglia che va avanti da tempo, come da tempo i residenti chiedono interventi che loro per primi hanno cercato di mettere in atto, anche se non con l'effetto sperato. Abbiamo messo tutte le luci qua sotto al bar, illuminato a giorno, per tre giorni, quattro giorni, sono spostati di dieci metri. Adesso sono ritornati, anche se è illuminato a giorno, si fermano davanti a niente. Grazie a tutti.